Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Mettimi a fuoco Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Allora oggi vediamo 18-18 significato Perché mi è uscita l'altro giorno Io screenshotto tutti questi orari e poi li vado a cercare E devo dire che dai, il messaggio è molto positivo Quindi voglio darlo anche a voi Ovviamente l'ho cercato Io non me ne intendo di queste cose Però mi incuriosiscono molto Questi fattori qui un pochino Che si sentono, no? E quindi vado a cercarmeli Allora 18-18 significato È un significato positivo Allora significa Progresso, realizzazione e prosperità Quindi in realtà già Diciamo che Non ci dovremo più preoccupare Di problemi finanziari La fortuna sta finalmente girando Dalla nostra parte E un tuo grande desiderio potrebbe Abberarsi E poi abbiamo appunto Il significato dell'amore Delle 18-18 Il messaggio che ti vuole mandare Il tuo angelo custode È di donare per ricevere Se fai gli sforzi necessari Per conquistare il tuo partner O per ravvivare il rapporto Allora avrai capito Il vero significato dell'amore E tutto non potrebbe andare bene 18-18 è 36 Quindi numeri doppi E qua abbiamo Un legato al viaggio all'estero Grazie al tuo lavoro E alla tua energia O alla tua competenza La tua vita sociale Va a gonfiere Il 36 simboleggia Ispirazione Apertura E fortuna Che arrivano Dopo un periodo Di dubbi e incertezze Come il luce in fondo Al tunnel Quindi È un messaggio Super 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 positivo Io spero di averti Tenuto compagnia Fammi sapere Se a te Capita Un numero doppio Particolare Lasciamelo scritto Qui sotto Un bacione E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao E iscriviti al canale Ciao Ciao